È un'interpellanza con cui chiediamo dei chiarimenti, soprattutto perché ci sono stati vari reparti che sono stati trasformati nel periodo della fase 1 in reparti Covid. Una relazione della direzione strategica del 24 marzo prevedeva anche la trasformazione del reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Pescara in polmone pulito. Poi successivamente invece è stato trasformato in centro regionale per i Covid psichiatrici, ma questo ha comportato una serie di problemi, sia in termini di trasferimento delle persone ricoverate e di quelle che sono state ricoverate successivamente, ma negativi, sia in termini di dei hospital che non sono stati più concessi a psichiatrici che invece ne avevano bisogno, sono categorie particolarmente deboli. In questo lungo procedimento si inseriscono due aspetti che vanno chiariti. Il primo riguarda la ricerca da convenzionare di un padiglione di una casa di cura privata. Abbiamo chiesto con tre solleciti, tre accessi agli atti, di conoscere le carte di questo procedimento e ad oggi non ci sono state date, per cui abbiamo fatto ricorso naturalmente a questa interpellanza. E un altro aspetto che non ci riguarda nell'interpellanza per il merito, ma per l'opportunità, perché in un momento di grande attenzione, di grande vicinanza agli infermieri, in questo periodo di particolare stress dovuti al Covid, ecco l'Asli di Pescara ha ritenuto di mandare sotto procedimento disciplinare 19 infermieri. Non ci interessa per il Covid, ma lo continueremo a seguire naturalmente in tema di opportunità di questo procedimento disciplinare. Grazie.